Sono oltre 34.000 le persone che nell'ultimo anno hanno chiesto aiuto per la prima volta a Telefono Amico Italia. Nel solo 2020 l'organizzazione di volontariato, che da più di 50 anni si prende cura di coloro che hanno bisogno di essere ascoltati e sostenuti, ha ricevuto più di 84.000 telefonate, arrivate nel 72% dei casi proprio da parte di nuovi utenti, persone che in passato non avevano mai sentito la necessità di chiedere aiuto. Noi abbiamo ricevuto un aumento di richieste d'aiuto intorno al 70% nell'arco di questo anno speciale, per cui sì, veramente tanto bisogno e anche tanto proveniente anche da persone che di solito hanno le loro reti, penso ai ragazzi più giovani o a chi era abituato magari a andare a lavorare incontrando delle persone con le quali poter scambiare anche i pensieri. Questo anno ha registrato soprattutto questa mancanza, cioè l'impossibilità per tanti di incontrare interlocutori e scaricare anche le tensioni emotive quotidianamente, per cui in questo senso abbiamo avuto la fortuna di poterci essere sempre e di poter dare il nostro contributo per sostenere questo periodo difficile. Per fronteggiare l'importante aumento delle richieste di aiuto, l'organizzazione ha lanciato una campagna per la ricerca di nuovi volontari. Abbiamo bisogno di volontari, noi siamo attualmente circa 500. Quelli che stiamo cercando sono persone, quindi non hanno dei requisiti in termini di professionalità o di competenze già acquisite, perché le competenze che servono per fare il nostro servizio sono quelle che vengono apprese durante il corso, quelle che veicoliamo noi. Ci sono però delle caratteristiche delle persone. Innanzitutto la disponibilità, la volontà di esserci per qualcun altro, quindi una forma di interesse, di affettività nei confronti degli altri. Una apertura mentale, perché il nostro è un servizio nel quale si ascoltano storie, posizioni, atteggiamenti veramente i più vari, i più diversi. E quindi è necessario che chi fa servizio con noi, chi presta il proprio tempo per ascoltare qualcun altro, abbia un'elasticità, una disponibilità ad accogliere anche pensieri diversi dai propri. Grazie a tutti.